la facoltà della statistica. Man mano che facevo statistica chiedevo il senso che c'era dietro alle equazioni e a quei filosofi che di fatto hanno pure creato i vari teoremi che studiavamo, da Taleta in poi, a Baez e compagnia bella. E la risposta era sempre stessa, questo è un corso di statistica, non è un corso di filosofia o di filosofia delle scienze. E allora a quel punto, dopo tanti anni, questa voglia mi è sempre rimasta, e ho detto, vabbè, chiudiamo il cerchio. E sono andato a fare questo corso di filosofia e è ricominciato da capo. Ho chiuso un cerchio e adesso mi sento più confuso di prima e ho meno risposte e forse qualche domanda e più. Però come ho imparato nei corsi di filosofia, forse la filosofia serve realmente a questo, a porsi le domande corrette. Siamo in una società dove tutti hanno risposte a tutto, ma probabilmente sono le domande che sono sbagliate. E aiutarvi magari a riflettere su come farvi le domande sarà già per me un gran successo. Io parlerò essenzialmente di un'esperienza nell'ambito della cultura europea, se così si può definire. Definire e chiudere una cultura è come cercare di chiudere la sabbia in un pugno. Però alla fine abbiamo tutti quanti bisogno di porre delle costanti per risolvere le equazioni. Quando voi disegnate su un asse a due dimensioni cartesiano un legame tra due variabili, state ipotizzando che le altre n variabili sono costanti. Quella è un'ipotesi, chi ve lo dice? Ma ci serve per ridurre il caos dell'analisi, altrimenti dovrebbe andare a tre dimensioni e già ci siamo. A quattro dimensioni possiamo anche immaginare un foglio a due dimensioni, un libro a tre, una biblioteca che ha la quarta dimensione, ma la quinta come la immaginiamo? L'insieme delle biblioteche del mondo e la sesta? Quindi alla fine è chiaro che si cerca di ridurre e l'ipotesi è che il resto non sia variabile. L'ipotesi, perché noi viviamo nel caos ed è questo che fuggiamo. Noi siamo sempre alla ricerca di certezze. Il mondo però non ha nessuna certezza, non nasce per darci certezza, anzi il mondo proprio neanche prende considerazione di noi, ma poi ne parleremo magari citando un paio di filosofi. Parlo di cultura europea, quindi io non vi conosco, quindi non so se ci sono tra di voi ragazze o ragazzi che vengono da altre culture, cinese, araba, quindi mi rendo conto che le parole, il mio modo di ragionare, sono figlie della cultura sulla quale sono cresciuto. Quindi chiedo scusa se l'approccio sarà tipicamente europeo, ma io già malapena conosco poco della cultura europea e come diceva un gran filosofo Wittgenstein, se una cosa non la conosci, lascia perdere, non parlare. Sembra un'ovvietà, ma se questa ovvietà oggi fosse utilizzata da molte persone, avremmo meno rumore, più silenzio, e il silenzio è veramente qualcosa che aiuta a pensare e a riflettere. E a pensare è una fatica. Come diceva, ne parlavo col vostro professore, io sono innamorato di una filosofa di origine tedesca, poi dovuta sfuggire in America perché è ebrea, anche se lei non ha mai professato questa religione, Anna Arendt, che diceva che il male cresce in assenza di pensiero. Lei ha scritto un libro bellissimo, la banalità del male, il processo di Heichmann a Gerusalemme, dove dice alla fine, ma questo è un uomo normale, non ha niente di diabolico Heichmann. Heichmann è stato responsabile del trasporto dei milioni di ebrei che sono stati uccisi nell'Eucausto, e dice, ma questo ha solo un problema, non pensa. E quindi il male non è qualcosa di profondo, è qualcosa di orizzontale, come orizzoma, non ha radici, mentre il bene è profondo, perché il bene si basa sul pensiero. Il pensiero è qualcosa di importante, è importante anche nello sport, perché senza pensiero è difficile agire. Io però adesso mi appoggio, mi appoggio solo perché in qualsiasi momento interrompete, chiedete, perché non amo molto le presentazioni PowerPoint, ci standardizzano il pensiero, ci portano a una forma unica, invece dovremmo rifugirla sempre, noi dovremmo cercare la nostra individualità, stare all'interno della nostra comunità, ma restare individui dotati del proprio pensiero. Però insomma mi aiuta un attimo a livello soltanto di esposizione. Allora vediamo un po' una finestra, come mi ha detto, e se apro qua, si dovrebbe vedere, voi dovreste vedere la mia presentazione, condividi, eccola qua, si vede Monica? Si vede questa domanda? Si vede, si vede, si vede. Si vede, si vede. Perfetto. Sì, sì, allora. Voi state all'istituto, non so quanti di voi sanno bene chi è Marisa Belisario. Io ho lavorato, in una delle mie tante vite, dopo la laurea, per garantirmi il cibo, per andare a vivere per conto mio, prima in IBM, e sono stato a Nove Trate, un posto dove adesso c'è le campus, dove quando ho fatto il corso dell'IBM c'era solo nebbia, ma tanta nebbia che non ho più vista in vita mia, e poi sono passato dopo un po' di anni all'Olivetti. Ho lavorato nell'Olivetti negli ultimi anni di Marisa Belisario, non l'ho conosciuta, ho conosciuto, però chi ha lavorato con lei, devo dirvi che le parlavano in una maniera eccezionale, essere dirigenti di un'azienda internazionale, partendo da programmatrice, lei è stata una dei primi programmatori italiani e ha partecipato ai primi programmi sviluppati con l'Elea, che è stato il primo computer importante fatto in Italia e migliore di tanti computer americani. Si vocifera che il grande ingegnere giapponese, o cinese, non ricordo, che stava dietro a questi elaboratori, morì, ma non morì casualmente. L'IBM aveva tutto l'interesse che lo sviluppo dei computer italiani si fermasse. Marisa Belisario, dopo programmatrice, è diventato un dirigente dell'Olivetti e poi dell'Italtella. E poi si è battuta tantissimo per la parità di genere sul lavoro per le donne. Cioè, un personaggio notevole e in qualche maniera dovreste essere orgogliosi di stare in questa scuola che porta il nome di questa donna importante. Da dove parto? Parto da qualcosa che apparentemente è lontano, ma che però è la molla di molte delle cose che viviamo. Anche se uno dei filosofi che citerò più avanti dice che le passioni sono qualcosa che l'intelletto deve contenere, deve rielaborarle per portarla a una conoscenza superiore, io, anche se amo molto il signor Baruch Spinosa, non lo amo da questo punto di vista. E volevo farvi vedere, spero che si senta, perché spero che ci sia immediatamente la condivisione del suono, perché in alcuni programmi non c'è se si sente anche questo. Vediamo un po'. E il suono si sente... Basso, sì. Basso, basso, basso. Non c'è la traduzione, sì. Poi lo alziamo. Però c'è la traduzione sotto. La traduzione sotto. Come the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum. I knew one thing was real I fell in love with you A love so deep I gave you my all From my mind and body To my spirit and soul As a six year old boy Deeply in love with you I never saw the end of the tunnel I only saw myself running out of one And so I ran I ran up and down Every court after every loose ball for you You asked for my hustle I gave you my heart Because I came with so much more I played through the soul I was quite going to hurt Not because challenge called me But because you called me I did everything for you Because that's what you do When someone makes you feel As alive as you've made me feel You gave a six year old boy It's like a year And I'll always love you for me But I can't love you obsessively For much longer This season is all I have left to give My heart can take the pounding My mind can handle the grind But my body knows it's time to say goodbye And that's okay I'm ready to let you go I want you to know now So we both can savor every moment we have left together The good and the bad We have given each other all that we have We both know No matter what I do I'll always be that kid with the rolled up socks Garbage can in the corner Five seconds from the clock Ball in my hands Five Four Three Two One 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 Love you always, Colby. Love you always, Colby. Come avete visto l'attore protagonista che poi è quello che ha scritto il tutto è Colby Bryant. Da questo nome strano dovuto al fatto che il padre giocava in Giappone e gli piaceva la bistecca che aveva il nome proprio Colby. Perché partire da questo? Perché il gioco è fragilità e com'è fragilità anche un rapporto amoroso. Voi ormai state uscendo dall'adolescenza, se già non ci siete usciti. E una cosa che io dico sempre ai miei giocatori o alle mie giocatrici è che due posti conosco dove non ci si può nascondere nel lungo periodo. Uno è il campo di gioco e l'altro è una relazione amorosa. Sul campo di gioco prima o poi chi sei esce fuori. Non puoi sempre cercare di nasconderti dietro ai compagni. Anzi, lo sport ti aiuta a non nasconderti più, ad accertarti per quello che sei e ti fa vedere cosa devi fare per migliorare. In questo l'allenatore o l'allenatrice funge da specchio, da stimolo. Nei rapporti amorosi non penso che voi e sulle vostre esperienze che avete fatto o farete alla lunga ci si possa nascondere. Quindi c'è una grande affinità. Avete visto che lui parla sempre del gioco. Perché è vero, noi parliamo di agonismo e parliamo di contrapposizione contro altre persone. Questo non è vero fino in fondo. Noi giochiamo contro il gioco. Se io nel mio sport non so palleggiare, cioè non so eseguire un aspetto del gioco, io perdo palla e quindi non è che è colpa del merito del difensore. Sono io che ancora non so giocare il gioco nella sua completezza. Quindi si gioca contro i limiti che il gioco mi pone e io posso solo superarli di volta in volta, allenandomi con pazienza e evitando scorciatoie. Le famose shortcut, se qualcuno di voi siete giovani, quando ero giovane io si vedeva un cartone animato che era Willy il Coyote. E beh, Willy il Coyote cercava di correre e di prendere BB, che è un corridore, proprio si chiama BB. Beh, lui all'improvviso quando vedeva una scorciatoia la prendeva sempre. Rimaccabilmente in questa scorciatoia c'era un treno che lo prendeva in fronte, c'era un dilupo o qualcosa di peggio. Quindi il messaggio è evitiamo le scorciatoie, è duro, è fragile, ci si mette davanti a se stessi, procura lacrime e sangue, ma non c'è altro se vogliamo crescere. Che approccio voglio avere con voi? Beh, io non voglio vendere fumo, non sono un filosofo, questi strumenti li possiedo per quello che mi sono costruito da solo. Quindi farò dei sentieri interrotti, magari inizieremo un discorso e dopo un po' vedrete che me l'allantano e magari non sono stato né preciso né esaustivo. Un po' come diceva questo filosofo controverso, Martin Heidegger, che diceva che insomma alla fine il suo pensare era un po' come dei sentieri interrotti che si inoltrano dentro il bosco e possono più o meno poi portare a una ratura che illumina il pensiero della mente. Lo vedete sia a sinistra in una foto dei suoi anni più anziani, in un vestito un po' caratteristico, nella sua casa nel bosco dove viveva e una volta ricevuto un poeta ebreo Paul Selan, si sono fatti una passeggiata insieme, di quella passeggiata non si è mai saputo nulla tra un ebreo e un filosofo che ha supportato il regime nazista. Infatti a destra vedete un libro che parla sì di Martin Heidegger, che è quello fotografato di schiena, ma parla del passeggiare come luogo che stimola il pensiero. Quindi aspettatevi questo, dei sentieri interrotti che magari prenderemo e poi in qualche maniera diciamo come mai abbiamo abbandonato quella strada, sì, sarà così, sarà così. Le tre domande che volevo condividere con voi sono enormi, quindi non so neanche se ce la faremo a rispondere alla prima, forse alla seconda, spero alla terza. Cos'è lo sport? Che senso ha lo sport? Una cosa è dire io faccio sport, io mi alleno, ma sì, ma che cos'è quello che fai? Perché lo fai? Che senso ha per sé lo sport e per voi, se praticate un'attività sportiva? Se lo vedete, se in qualche maniera è un mondo col quale vi relazionate. L'altra domanda è ancora più complessa, ma esiste una relazione tra sport, filosofia e etica? Cioè ma veramente è così facile dire ah sì, lo sport fa bene? Io dico sempre che lo sport è una campana di Gauss non simmetrica. Che cos'è la campana di Gauss? Gauss ha dimostrato che una variabile si distribuisce rispetto alla propria media come una campana, quindi simmetrica. I valori a destra e a sinistra lo suono. Beh, io non sono convinto che questo era lo sport. Io penso che lo sport fatto bene fa bene. Lo sport fatto male fa malissimo. Fa molto, molto male. Quindi più che altro, più che chiedermi cosa fa del bene lo sport, mi chiederei cosa evitare nello sport che fa male. Almeno riesco ad avere una coscienza tranquilla. E poi ipotizzabile con la filosofia, con la ricerca del senso del nostro agire, del nostro stare soli e stare insieme agli altri. Belle domande, insomma. Solo a rileggere mi rendo conto che mi sono preso un bel impegno. E infine, che cos'è la filosofia dello sport? Che è un ramo della filosofia, chiamiamolo così, che non ha molti anni. Vedremo che la filosofia, dopo un certo periodo importante, ha snobbato completamente le azioni del corpo. Come se il filosofo debba essere solo colui che sta in una stanza, chiuso, non agisce, non segue le emozioni, è sconfinato dal mondo e non c'è. Insomma, questo è un modo di vedere la filosofia. E finiscono. Anche tra le tante filosofie ce n'è una dell'agire, che è forse quella che a me interessa di più. Ma ne parleremo di più. In avanti. Come vi ho detto, i limiti del mio intervento saranno i limiti del mio linguaggio. Nel senso che io userò parole per confrontarmi con voi, cercherò di non usare parole di cui non possiedo il controllo. Perché, di nuovo, questo filosofo, che appartiene un po', poi ne vedremo, insomma, c'è chi dice che è un filosofo analitico, poi vedremo se è più analitico o continentale, e cosa queste due parole vogliono dire nella divisione del pensiero filosofico occidentale. Ma è certo che aveva avuto veramente un'ottima esperienza di programmazione neurolinguistica e oggi molte delle teorie dei neuroni a specchio che si sentono in giro anche da un punto di vista di allenamento richiamano sue teorie e ancora più lontano teorie sempre di Baruch e Spinoza. Ma tra i due, passando in mezzo per Nietzsche, c'è veramente due punti interessanti. gioco sport. Qui utilizzo un primo autore che, all'inizio degli anni, a metà degli anni del 900-1938, ha cominciato un po', dopo anni di buio, a definire cosa poteva essere un gioco e cosa poteva essere chiamato sport. Lì vedete la definizione di Uzinga, preso dal libro Homo Ludens, dopo Uzinga banalmente, usiamo questo termine banalmente, al di là di quello che c'è scritto che potete leggere, quindi non è il caso che io mi metta a rileggerlo, ci condurrà a pensare che lo sport è nato prima di qualsiasi, scusate, il gioco è nato prima di qualsiasi attività speculativa di pensiero, che non è neanche razionale, perché giocano anche gli animali, o diciamo che gli animali sono razionali come noi, oppure se vediamo due gatti che giocano tra di loro, simulando quello che faranno da grandi, lo chiamiamo gioco, magari sbagliamo a chiamarlo gioco, ma così è, e quindi è qualcosa che ci precede, e anche la formazione culturale del nostro pensare lo è stato in forma ludica, cioè è passata attraverso qualcosa che si presentava come gioco per i nostri antenati. Quindi un concetto antropologico estremamente importante, che ci dice, attenzione, non vedete la cultura come separata dal gioco, non arriviamo a dire che la cultura è figlia del gioco, ma diciamo almeno che la cultura si esprime attraverso forme di gioco. Questo è già estremamente interessante. Detto questo, uno si dice, ma perché gioco? Cos'è il gioco in sé? Beh, insomma, non è facile. Ho scritto questo perché non è che voglio sfuggire alle responsabilità che ho preso con voi oggi, ma perché noi usiamo delle macro parole che vogliamo che cristallizzino il caos che ci circonda, e non è così. Quindi questa parola può essere vista, immaginate un pallone al buio che voi illuminate con una luce che viene dall'alto e quella proietta un'ombra, vi serva un cerchio, vi sembra. Beh, se spegnete quella luce, e poi proiettata un'altra luce da 45 gradi, voi vedete un'ellisse. Cioè, ma alla fine è un'ellisse o un cerchio quello che si vede proiettato? Forse, anzi, noi sappiamo che poi non è né uno né l'altro, è un pallone. Quindi attenzione alle formule che ci danno certezza. Non esistono formule valide per sempre, quindi bisogna essere in grado di surfare sui concetti, fare surf, come diceva, ma loro dicevano che Charlie non faceva surf. Charlie era come gli americani chiamavano i Vietcong nella guerra nel Vietnam, c'è il film dove Platuno dove c'è scritto, o no, o Apocalypse Now dove c'è scritto che c'è una scena dove vanno a far surf su una spiaggia. Quindi cerchiamo un attimo di muoverci definendo i concetti che ci daremo, però come se fossero sfocati, dove la probabilità che siano veri non è del 100%, dove quello che cerchiamo è una vera somiglianza dei nostri termini. Eh, ma il gioco è importante, però qui è Bateson che conduce il dialogo, questo è stato strato, come vedete, da un libro che è Questo è un gioco, questo è un gioco che è un'affermazione che lui fa in un libro precedente e chiede ma come si può dire che una cosa è un gioco o non lo è? Questa è l'ecologia della mente che io vi consiglio di leggere, che è un libro estremamente importante perché Bateson non è un filosofo, non è un paleologo, non è un archeologo, tante cose messe insieme e quindi ha questa capacità prismatica di vedere la realtà. Beh, questi signori che sono nel loro campo tutti dei specialisti, chi è etologo, si scambiano queste informazioni sulla serietà del gioco. Dice, si gioca per sovravvivere, ma questo che serve il gioco? No, dice il gioco, il gioco è la vita e l'altro gli risponde la vita è sopravvivenza, quindi è una cosa estremamente seria. Infatti, sopra cosa vi ho scritto, vedete i bambini, cioè non guardate noi, ricordatevi quando voi avevate magari 8, 9, 10 anni, per me è impossibile ormai, ma per voi può essere possibile. La grande serietà che mette un bimbo quando gioca. Veramente, è una cosa impressionante e quindi questo è qualcosa che ci dobbiamo conservare, il che non vuol dire che non c'è divertimento, ma l'approccio è estremamente serio, perché per loro è estremamente serio giocare. Ma perché forse? Innanzitutto perché il gioco è un atto libero, cioè se un gioco viene comandato devi giocare, insomma è finito il gioco, è finito il gioco. Sulla serietà del gioco, chi fa sport, vi invito intanto, vi apro una finestra, rifletteteci, poi magari mi dite che ne pensate. Se io vi dico siamo compagni di squadra e vi dico oh per cortesia oggi veramente stai giocando, la prendete come un complimento o come un rimprovero. eppure stiamo giocando, stiamo giocando un gioco, to play a game. Noi per sfortuna abbiamo un solo verbo, gli inglesi ne hanno due, to play a to game, per dire mi diverto e gioco un gioco in maniera organizzata. Ma se io vi dico oh, ferma un attimo, guarda che tu oggi stai giocando sul campo, attenzione, mi dite come la pensate. Tutto al più può essere la riproduzione obbligata di un gioco, perché è un gioco nel suo piccolo e sarà questa la differenza che vivendo tra un gioco non strutturato, un gioco strutturato e uno sport, è l'insieme delle regole che crescono, coordinate tra di loro. Le regole sono una bella cosa, ma le regole limitano la libertà dell'agire umano. Troppe regole ci fissano e ci bloccano in un vivere statico, un sistema totalitario è fatto di tantissime regole. Dall'altra parte c'è l'anarchia didattica, l'assenza completa di regole che potrebbe produrre un'entropia così veloce che alla fine non ci si capisce nulla, perché se il gioco non ha un minimo di regole non sappiamo mai a che gioco giochiamo. E la prima cosa che fate, ricordate quando magari andate o andate al mare e qualcuno vi dice oggi se vieni con noi giochiamo a Pippo Pluto. La prima domanda che voi fate ah sì, ma quali sono le regole di sto gioco? Perché se no altrimenti uno dice ma qual è la cornice del gioco? Poi, vabbè, poi guardo voi qualcosa apprenderò giocando, ma datevi almeno una cornice perché se mi date un cazzotto e io reagisco in un certo modo se poi mi dite che invece faceva parte del gioco tipo il pancrazio che tra poco vedremo uno dice vabbè, a saperlo prima facevo qualche altra cosa. È una sospensione della vita vera perché si entra in una sfida di spazio-tempo questo Monica l'avrà sentito tante di quelle volte la vostra professoressa nei corsi degli allenatori. Spazio-tempo io dico mi diverto a dire la pallagrestra un po' come Dio perché Dio gestisce lo spazio-tempo. Qui si tratta la stessa cosa ha uno svolgimento proprio e un senso in sé. Trovare un senso fuori dal gioco non è così semplice perché il gioco comunque comincia a un certo tempo e finisce. Non esiste un gioco illimitato o almeno da quello che ci permette la nostra conoscenza. Magari in qualche realtà parallela ci sono dei giochi illimitati. Non lo sappiamo possiamo solo immaginarlo. il gioco è ordine ci vincola e ci libera allo stesso tempo è un ossimoro perché ci vincola le regole e si è sempre queste regole ci liberano poi di esprimerci all'interno di ritmo e armonia ma anche l'armonia è un ossimoro è l'equivalenza è l'equilibrio dei contrari. Quindi vediamo fino adesso io ho usato citazioni dirette o non dirette del signore Uzinga che era un olandese un antropologo olandese. Qui usiamo le parole di un francese che è scritta non molto dopo anche se l'edizione è più recente diciamo 30 anni dopo ma lui dice un po' le stesse cose un gioco è un'attività libera separata incerta la famosa alea dei nostri latini è improduttiva in sé lo sport il gioco scusate non produce nulla una volta finito il gioco l'effimero produce po' anzi non produce nulla ma forse il fascino è in quello in una società come la nostra che fa della misura della produttività ormai anche intellettuale non più manuale fa della misurazione del tutto la sua essenza è regolata ma con le regole che ci dicevamo prima anche fittizia quella mi sono dimenticato di evidenziarlo probabilmente è un termine che inconsciamente mi piace poco però è così non è una qualcosa che ha un impatto diretto con la vita normale si dice i bambini giocando imparano a vivere insomma su questo ci metterei 12 punti interrogativi ma ve lo lascio a voi questa domanda non ho una risposta immediata abbiamo cercato in una maniera abbastanza riduttiva perché ce ne potono stare altre 10.000 ma insomma diciamo che Uzing e Callowas sono quelli che realmente hanno dato inizio a questa riflessione sul gioco come importanza nella vita umana quindi mi sembrava corretto e opportuno partire da chi ha avuto un'importanza significativa e non tanto poi citare chi dopo ne ha declinato le affermazioni in modo così più o meno diversificato stessa cosa è sullo sport e qui ho messo quello che dice la Treccani che insomma fa riferimento in molte definizioni in molti sensi etimologici delle parole vedete anche che il dizionario della lingua Garzanti non è che si discosta molto da questa attività dove cominciano a starci però le parole competizioni dove c'è un vincere che è sempre più importante dove c'è un agonismo fisico dove si integrano capacità fisiche manuali e intellettive dove il corpo deve esprimersi nella sua interezza e non può essere suddiviso in compartimenti stagni vedete che lo sport ha solo nel 92 perché qui veramente sarebbe da fare tutta un'altra disamina sull'importanza poi il riconoscimento sociale dell'attività sportiva col Consiglio d'Europa di Rodi ha un'attività ha una definizione chiara tenete conto che adesso esiste un quaderno bianco della comunità europea che però è del 2006 che dà tutte le definizioni sociali dello sport e cosa deve fare la comunità europea per far vorirle lo sviluppo e tenete conto che questo quaderno è stato ricepito in Italia dai governi solo 5 anni dopo e solo quindi sono praticamente solo 9 anni che ragioniamo in termini sistematici su che cosa può essere l'organizzazione di questo momento importante della vita dell'essere umano e vabbè che cos'è questo benedetto gioco sport diverse versioni condannate a non laggiarsi mai il maschio innamorato se lo fa è un meccanismo inafferrabile se sono invece di scartere con il da qui avessi un paio da lì io vorrei di da te l'amore è un gioco di 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 l'amore non si chiede il perché allora l'amore è un gioco qui qualcuno ci dice l'inverso l'incendio di un frammento nel buio della sera la luce dei non fiumi su queste strade di cera guidando verso il nord in un lunedì da cari comete di ricordi ad indicare i miei domani il tempo passa dritto non prova nostalgia e lascia dentro gli occhi l'amarezza e l'allegria generazioni in ciclo con le loro convinzioni che mescolano i sogni a una manciata di canzoni la vita è un maragano che ci strappare bene un'autostrada insieme con corne di il freddo tempesta è un tuffo dentro un cerchio di fuoco la vita è un gioco la vita è un gioco tra eroi allora non solo un gioco può essere amore ma anche la vita nel suo complesso può essere considerato un gioco uno può essere d'accordo con il negramaro o con la cantante che ha preso il nome da una bellissima canzone di De Andrei Dolciamara insomma bisogna stare nell'ambito però uno rischia veramente di andare a debordare e vabbè insomma io direi che quello che ci dice il dizionario Treccani è quello che mentre lo leggete è quello che realmente possiamo condividere la parola sport come leggete scritta in fondo appare non appare immediatamente nella nostra società non appare né nella società greca né nella società romana né a seguire nel lungo medioevo rinascimento umanismo ma nascere nel 1532 un secolo estremamente importante di cambiamenti che avrà poi nel 600 una quota estremamente fondamentale vi invito se ci avete voglia a leggere libri sul 600 olandese il secolo d'oro troverete veramente delle cose eccezionali non solo da un punto di vista filosofico ma anche di produzione di quadri pensate solo a Rembrandt beh è una parola che voleva dire era una parola che pregnava dal francese Deporte che voleva dire divertimento passatempo ancora la usiamo con questa ricreazione quando andiamo a dire facciamolo per sport come se fosse un qualcosa che non è così pesante nella nostra vita e poi invece se ve lo chiedete a un giocatore di calcio di serie A non è che sia così leggero insomma questo è quello sul quale possiamo essere tutti abbastanza concordi e quindi abbiamo due parole che possiamo cominciare a condividere con una cornice più o meno accettabile ma gioco e sport ma quali sono le similitudini quali punti possiamo sinteticamente costruire io vi ho detto sì è qualcosa che ha a che fare con una crescita dell'agonismo una crescita dell'impegno fisico richiesto una strutturazione della competizione all'interno di regole ben precise e condivise sia orizzontalmente che verticalmente cioè se voglio giocare a Roma e voglio venire a Milano devo trovare le stesse regole altrimenti non riesco a viverlo come sport beh allora è qualcosa che si rileva all'agonismo a GON all'ALEA ai giochi legati al caso perché la mancanza di certezza è tipica dell'attività sportiva ma è anche un gioco di travestimenti nel nostro sport fare le finte è importantissimo nella palla canestro in molti sport si usano delle finzioni come lo è il gioco che prova poi un'ebbrezza la sfida l'adrenalina che sentite dentro di voi le emozioni che arrivano oggi forse se qualcosa rimane della figura mitologica dello sport è la realtà che forse vi dà emozioni ancora cioè vi prende a livello di passione qualcosa che può essere positivo o negativo perché come tutte le cose è il contesto e come gestite queste cose che farà la differenza come adesso non stiamo parlando del sport più avanti vedremo affermazioni anche dure nei confronti dello sport perché chi ci garantisce che lo sport ha un senso positivo dove sta scritto ci sono filosofi francesi di questo secolo che sono arrivati a usare parole durissime poi vi leggerò un brano di Robert Redker che insomma ci dovrebbero far riflettere ma qui teniamoci ancora a Calois e dove quello che mi interessa è la frase finale attenzione molti giochi e sport si basano sulla loro capacità di associazione il mio sport e lo sport che insegniamo io e la professoressa Lanzi sono sport dove vi viene richiesto questa capacità di integrazione in brevi tempi e in brevi spazi ok volevo vedere eccolo qua sicuramente il gioco è un'attività strutturata l'altro è separata ma attenzione quello che mi interessava in questa slide è cominciare a dare dei flash eh ma le stesse quattro parole che abbiamo usato prima possono degenerare come tutti quanti i concetti che noi usiamo la filosofa francese morta fin troppo presto Simone Weil altra donna che se riuscita a leggere qualcosa di Simone Weil beh lei ha scritto dell'Iliate della foe che parla dell'Iliate come del libro sulla forza beh lì dice il nostro essere umani è la scoperta del limite ogni cosa noi dobbiamo scoprirne il limite l'assenza di limite è violenza è inumana come può essere la gomma un antagonismo sociale accesissimo o la credenza cieca nel destino quanta gente crede ciecamente nel destino o fa della fortuna eh della il suo esistere ma anche la nascondersi far finta non vorrei parlare di sindromi di bipolarità che è una malattia ma parliamo di sdoppiamento veramente di personalità qual è il rischio schizofrenico di questa di questo essere fino alla ricerca estrema di sensazioni sempre più forti che hanno sempre accompagnato l'essere umano non è che la tossicodipendenza di oggi anzi se pensiamo ai poeti maledetti francesi un Arturo in Boga ha scritto delle poesie bellissime ha scritto una poesia di una sua passeggiata a piedi nudi l'essere e le emozioni che provava come stare insieme a una donna eccezionale ma questi vivevano delle loro droghe assenzio e altro ancora veniamo a noi affrontiamo il secondo punto se non ci avete domande o volete risparmiare dopo o dite insomma ma questo che c'è sta di allora siate educati e non chiedete nulla dove siamo? beh siamo dove quasi contemporaneamente ma nasce sicuramente prima l'attività motoria la prima olimpiade nasce nel 776 viene svolta nel 776 avanti Cristo qui stiamo in una delle scuole nelle accademie che cominciano a sorge invece nel quinto secolo quindi abbiamo qualcosa che nasce prima di la direttiva sportiva le olimpiadi dureranno mille anni finiranno nel 393 circa 290 edizioni e finiranno per motivi molto politici nel senso che il papa Deodosio convinto da Sant'Ambrogio dal vostro Sant'Ambrogio che vedeva nelle olimpiade uno sport tipicamente pagano e siccome aveva sussunto ormai la religione cattolica come legge come religione di stato chiuse le olimpiadi qui no qui stiamo ancora in qualcosa che mischia completamente queste due realtà il pensiero il filosofo e l'uomo di azione qui vedete vi ho scritto tre parole intorno al disegno ci sono tre insegnanti partiamo da quello di sinistra il ginnasta chi è il ginnasta il ginnasta è colui che allena è l'allenatore di oggi infatti cosa sta facendo vedere a quegli allievi nudi si careggiava nudi poi vedevo anche per la curiosità per cui si careggiava nudi non soltanto per non avere appigli legati ai vestiti vedete che sta dimostrando mentre due atleti fanno il pancrazio agli altri studenti agli altri giovani cos'è il pancrazio e come si combatte su in altro c'è il pedotriba che vedete si vede una testolina che sta con una veste celeste che guarda da lontano chi fa gli esercizi ginnici quello infatti è l'insegnante di educazione fisica chiamiamolo così è quello che insegna i gesti motori che vuol far migliorare le capacità motorie dei propri atleti qui sono tutti uomini e poi vediamo anche questo a destra però in fondo c'è un terzo insegnante ben vestito mentre il ragazzo ha soltanto una tunica perché potrebbe essere pronto ad essere chiamato a gettarsi nel centro di questa palestra sa nel porticato dove si camminava e si facevano lezioni di filosofia dove si parlava del senso delle cose le due realtà accadevano contemporaneamente e venivano scambiate in qualsiasi momento da parte dell'adolescente il tutto era sotto la protezione di dei ben precidi Eracle, Hermes Atene, Cera, Teseo ma insomma questo quello che mi interessa è farvi vedere la contemporaneità di questo vissuto a destra vedete i resti di una reale palestria di quegli anni questo ce lo siamo già detti che c'è una nascita ludica e vabbè ma lo stesso Omero di cui non si sa per ben preciso quanto è nato c'è chi lo fa nascere nel 1200 avanti Cristo chi nell'800 in contemporanea un no con la guerra di Trovia insomma se è esistito il no ce lo stiamo ancora chiedendo o se è una serie un collect book fatto da più mani e più pensieri quindi una summa non teologica ma una summa di scritti da parte di più persone dall'altra parte c'è Pindaro di cui abbiamo ben preciso quando è nato e quando è morto a largo mentre assisteva a una delle tante olimpiadi perché non è che c'erano soltanto i giochi olimpionici ma c'erano quelli di Atene ma c'erano tanti sparsi tra Corinto e compagnia bella dedicati a diverse a diversi dei ma questi due che sono all'origine di molti dei nostri scritti sia poetici e non ma insomma Omero scrive qualcosa che sia poesia ma è un tratto di storia di filosofia ma questi hanno scritto in continuazione del sport se voi andate al canto ventitresimo dell'Iliade c'è veramente il resoconto delle gare che Achille organizzò e quindi delle olimpiadi funere cioè dovuta alla morte del proprio amico amante padro dall'altra parte invece c'è Pindaro che racconta nelle varie questa è l'Olimpica 1 una scritta 12 13 racconta alcuni gesti di queste olimpiadi ovviamente in queste olimpiadi le gare erano molto ridotte c'era la corsa la corsa con i cavalli la corsa vestiti da soldati perché erano gesti che poi riproducevano i gesti i gesti fatti durante la guerra erano olimpiadi dopo chi vinceva prendeva dei premi altra retorica che c'è sull'Olimpia di questa dovuta essenzialmente ad Agubertin cioè chi vinceva le olimpiadi e solo chi vinceva prendeva un premio il primo il secondo il terzo questo concetto di democraziazione è venuto dopo il primo solo vinceva ma c'è gente che viveva di sport c'era gente che vincendo una gara si poteva comprare la casa insomma quindi c'era realmente gente che si poteva permettere di vivere grazie allo sport infatti molti all'inizio erano o nobili che di fatto potevano fare sport perché non avevano nessun tempo perso nel fare sport e questo lo ritroveremo anche nelle prime olimpiadi pensate al film Momenti di Gloria molti dei corridori che vanno all'Olimpia di Parigi sono studenti dei migliori college inglesi dove solo per entrare bisognava essere di famiglia nobile l'unico che non è nobile lo scozzese è uno che arriva perché era troppo forte e poi spinto dalla propria struttura cattolica che lo supportava quindi toglietevi dalla testa questa ideologia della credibilità dello sport anzi e neanche della correttezza delle gare c'era gente che partiva prima nella corsa c'era gente che metteva scambetti infatti c'erano le multe gli atleti venivano multati anche pesantemente e con i soldi delle multe venivano fatte le statue di bronzo che venivano messe agli arrivi e alle partenze delle varie gare quindi proprio simbolicamente c'era qualcosa che richiamava questa scorrettezza quindi sinceramente bisogna stare attenti anche a questo uso attenzione che anche i filosofi con i quali siamo cresciuti come origine hanno a che fare con lo sport Socrate era un allenatore di Pancrazio e Platone era un atletes cioè un grande lottatore dello stesso sport Pancrazio che vedete a destra e adesso se li vedete nelle forme del Kling's Bocchins cioè praticamente era uno sport senza regola alla fine era una rissa organizzata tra due persone si poteva notare calci pugni trovare delle regole nel Pancrazio sinceramente era estremamente pericoloso e spesso la gara finiva anche con la morte dell'avversario quindi insomma era veramente qualcosa di estremamente duro e complesso ma lo stesso nome di Platone ha un legame con l'attività fisica e sportiva questo si chiamava Aristocle ma il suo allenatore di Argo visto la sua grande fisicità gli dà il nickname di Platone Plato colui che ha le larghe spalle quindi anche lì comincia a starci veramente una compresenza la realtà greca non vede una distinzione tra le due cose nella paidea cioè sia la paidea fisica ma anche quella intellettuale allo stesso livello lo sviluppo del giovane è uno sviluppo armonico parentesi del giovane le donne non erano ammesse se non in alcuni momenti nella realtà di Atene e di altre realtà era una messa a Sparta perché a Sparta c'era una cultura della fisicità e della lotta anche per le donne le donne spartane erano realmente molto molto determinate e combattevano anche a difendere i propri villaggi si narra che una volta una ragazza di Atene si è travestita coprendosi col vestito che si usava durante gli allenamenti e ha gareggiato con gli uomini fino a quando non gli è stato strappato questo vestito da quel momento si è imposto che si gareggiasse nudi appunto per evitare che qualche donna si infiltrasse sorridiamo poco di questa cosa esiste un'altra leggenda nella nostra cultura quella della papessa di una donna che è diventata papa vera o non vera se voi venite a Roma vi porto a San Giovanni in Laterano e vi porto a visitare la sedia che aveva un buco sotto dove eletto il papa uno dei grichetti doveva verificare se il papa era un uomo o no vi lascio immaginare come faceva questa verifica quindi riderei poco dei greci perché pure noi qualcosa poi eravamo preoccupati che una donna potesse salire a governare il regno in terra dei cieli quello che vedete è proprio la palestra di Platone vedete al centro qui c'è la struttura per le attività sportive fisiche qui c'è il colonnato dove si passeggiava e si rieffettiva e qui strutture coperte che venivano utilizzate per lezioni o quant'altro quindi Socrate innanzitutto insegnava camminando era un dramma camminare per Atene arrivava questo tafano come se lui si definiva le si incollava addosso e ve riempiva le domande fino a quando eravate distrutti ovviamente non tutti erano sottoposti a sentere cotoria non erano di nuovo i figli della nobiltà e degli uomini liberi i schiavi coloro che lavoravano per rendere libri di queste persone non è che stavano a spazio dovevano lavorare dalla mattina alla sera però insegnava le sue parole sono sempre piene riportate da Platone da riferimenti agonistici in continuazione trovate questo lui scrive dopo la musica la poesia e attraverso la ginnastica che i giovani devono essere addestrati bla 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 coloro che si dedicano esclusivamente alla ginnastica vengono o con eccessiva brutalità mentre coloro che si dedicano esclusivamente alla musica e alla poesia diventano più morbidi di ciò che è buono per loro il concetto di grande armonia e di equilibrio che è un po' la base oltre all'acqua al diventare migliore di sempre migliori era questo il concetto agonale tipico della cultura grega io devo cercare di diventare sempre migliore devo aver cura di me mi devo conoscere poi vedremo anche dove stava realmente scritta questa frase a Delphi si stava scritto sull'ingresso dell'oracolo ma non solo non solo una scuola come si dice per ipatetica qui trovate delle citazioni prese da Henry Leberton cioè quanto il camminare aiuta a sistematizzare i propri pensieri ci sono persone come Rousseau che hanno scritto un libro partendo dalle proprie passeggiate lì vedete di nuovo Heidegger che passeggia cioè quindi chi di voi va in montagna e fa passeggiate sa quanto questo aiuta a pensare a sistemare i propri pensieri le proprie emozioni quindi questo insegnare camminando metteva insieme il muovere il proprio corpo e il muovere la propria mente nella pezza dei platoni nel disegno non si vede ma sotto le colonne c'erano dei ragazzi che suonavano in continuazione suonavano una musica che non si era mai ascoltata fino a quel punto ma che cosa si insegnava lì dentro si insegnava la cura di sé ritrovate l'equivalente in greco era vista come un combattimento permanente cioè questo affrontare la vita è come se uno fosse un lottatore che deve essere sempre in grado di fronteggiare con coraggio agli eventi noi stiamo facendo un grosso errore nei vostri confronti e io vi chiedo scusa come generazione precedente vi stiamo evitando il conflitto una volta c'era il complesso dei tipi i figli litigavano col padre per liberarsene dal genitore noi oggi cerchiamo di rendervi tutto più morbido più facile ma non è questa la vita la vita è una lotta continua uno deve essere preparato a preparato a in maniera agonistica corretta precisa e non evitando l'agonismo evitando l'agonismo vuol dire creare persone che poi sbatteranno un giorno addosso a un muro perché quel muro arriverà Platone chiama tutta questa filosofia mutuando quest'amore per il sapere con un'altra parola che era la filoponia cioè l'amore per la fatica studiare è fatica io non sono tanto convinto che vi dispiace così tanto non andare a scuola c'è un bellissimo articolo che è uscito di recente che confuta tutte queste teorie del fatto che voi non siate contenti giusto o sbagliato non lo so ma alzarsi tutte le mattine presto uscire con la nebbia studiare studiare studiate è fatica ma non c'è nulla che arriva senza fatica non c'è nulla che arriva senza fatica allenarsi è fatica e purtroppo come vedremo in seguito nessuno ci garantisce che vinciamo cioè ci impegniamo ma nessuno ci garantisce che quello è sufficiente per vincere quindi Platone concepisce la filosofia come un dialogo vivo corpo a corpo e infatti la fonde in una becca palestra una palestra che era ai margini della città lo stesso Socrate insegnava muovendosi da una palestra all'altra andiamo a vedere quel nuovo ginnasio e mentre andavano a vedere il nuovo ginnasio li massacrava e quindi deve essere come l'amore per l'allenamento è l'amore per la filosofia è uguale nel simposio lo dice chiaramente è ancora così? non lo so vediamo un po' qua io ho detto che posso solo indicarti la soglia sei tu che devi attraversarla non cercare di piegare il cucchiaio è impossibile cerchi invece di fare l'unica cosa saggia giungere alla verità quale verità? che il cucchiaio non esiste so chi sei mio sono subito da te sei tu l'oracolo indovinato non sono come tu mi aspettavi vero? ah sono quasi pronti un profumo delizioso eh? sì ti inviterei a sederti ma so che tanto non lo farai e non preoccuparti del vaso quale vaso? quel vaso certo scusa ci ho detto di non preoccuparti lo farò riparare da uno di miei ragazzi come lo sapevi? oh la domanda successiva che ti frullerà nel cervello sarà lo avrei rotto lo stesso se lei non avessi detto niente sei più carino di quanto credessi ora so perché le piaci a chi? ma non sei tanto sveglio sai perché Morfeus ti ha portato qui da me allora tu che pensi? pensi di essere l'eletto? ad essere sincero non lo so sai cosa dice quella scritta? conosci te stesso beh insomma qualcuno ancora come vedete riemerge questo conoscere se stessi e riemerge in un film pieno di citazioni filosofiche pieno zeppo questo forse è il migliore non so se l'avete mai visto ma Matrix è quello che mi è piaciuto più ma devo dire insomma anche nel sottomarino è pieno qui c'è qualcosa che per me è centrale la parola con cui oggi giro con voi è questa beh la prima scuola filosofica è un luogo di ascesis che vuol dire allenamento esercizio che coinvolge mento e corpo nel suo insieme esercizio fisico e dialogo filosofico la stessa cosa lo vedete quello che dice Socrate nel dialogo platonico della cia diventare il migliore il più possibile era quello che faceva Socrate attenzione questa parola da esercizio fisico nella Roma cristiana cristiana cambia radicalmente diventa un esercizio solo spirituale il corpo non ha più valore anzi è fonte di peccato e quindi diventa ascesi ma l'origine non è quella è l'origine della contemporaneità del corpo e della mente poi qualcuno ha iniziato a dire vergognatevi del vostro corpo è questo è un altro capitolo che magari vi lascio a voi dovremo aspettare in maniera sistematica un filosofo cinico un altro che vi consiglio che è Peter Slotery uno dei maggiori filosofi io ritengo tali poi non è che io so chissà chi ma io lo ritengo veramente eccezionale nel suo libro devi cambiare la tua vita dice una cosa chiara abbandona la tua dipendenza ad uno stile di vita comodo presentati al ginnasio cogli l'occasione per allenarti come un dio di nuovo fuggite dal comodo fuggite dal comodo lo hanno fatto anche grandi asceti pensate a San Francesco da Sisi è fuggito dal comodo ho messo una sveglia alle 10.45 da questo momento se sto andando lungo dico a Monica di interrompermi quando vuole allora guardate un attimo finisce aspetta un attimo non mi ricordo più a che ora finisce ragazzi quest'ora qua aspetta che te lo dico alle 11.45 bene bene alle 11 suona tu la tua sveglia va bene abbiamo avuto gli stoici poi vedere Seneca quello che dice insomma non è che dice qualcosa di diverso insomma perché fino a quando non arriva Sant'Agostino Sant'Ambrogio e poi la scolastica di Sant'Omaso d'Aguino che è morto dalle mie parti poi le ossa se le sono portate via non c'è stata questa condanna esplicita da parte del sistema chiesa del corpo umano e del corpo umano femminile poi attenzione perché anche gli stoici in qualche maniera hanno conservato questo ma questo fiume carsico della contemporaneità e quindi dell'attenzione che la filosofia aveva della sua sorella sport scompare ce lo perdiamo proprio partiamo dal cristianesimo con il neoplatonismo non parliamo di Plotino quello che ha combinato e scritto data a leggere ma durante il medievo la cosa si fa veramente più confusa si si fanno ancora dei giochi che erano delle gare a cavallo ma erano essenzialmente delle attività speculari alla guerra era quello ai romani interessava conquistare il mondo a chi è arrivato dopo loro la stessa cosa il mondo era l'Europa e alla fine ecco il cristianesimo che diventa l'ideale dell'uomo pio con tutte le conseguenze negative che ne è arrivata e poi arriva Cartesio che ci dà il colpo di grazia con la sua distinzione tra la res cogitans e la res extens io penso dunque sono e qui Cartesio veramente fa a mio giudizio un errore drammatico questa predominanza della mente sul corpo eh ma Baruch Spirosa filosofo poco studiato che vi invito a leggere nello stesso tempo perché Cartesio è stato pure ospite è andato diverse volte a trovare Spirosa tanti vanno a trovare Spirosa poi tutti negano di averlo fatto Spirosa non è un filosofo che insegna non ha mai insegnato in nessuna università Cartesio sì eh altri che l'hanno seguito la stessa cosa anche altri che gli hanno rubato le idee stessa cosa lui viveva mettendo a posto le lenti per la vista era stato cacciato dalla sua comunità ebrea lui era un marrano che veniva dal Portogallo ma prima dalla Spagna con una scomunica un kerem come dicono gli ebrei di una violenza estrema che sia maledetto ogni mattina quando si alza che sia maledetto ogni sera che si mette al letto che sia maledetto da quando si alza a quando si mette al letto che nessuno lo frequenti perché aveva detto che Dio è natura che natura e Dio è la stessa cosa quindi un Dio è immanente e che noi avevamo eravamo fatti della stessa sostanza di Dio quindi noi corpo e mente erano la stessa cosa erano realtà parallele e non distinte e questo è qualcosa che oggi riprendiamo e che quindi il nostro corpo scambia apprendimento con la mente di nuovo i neuroni a specchio le nuove neuroscienze stanno dimostrando questo c'è un libro L'errore di Cartesio di un neuro psicologo Damasio che proprio è centrato su questo errore e su quanto Barocco Spinosa avesse subito corretto questo ma ovviamente lo stesso Leibniz che andava a copiare da Spinosa siccome però aveva bisogno dei soldi che gli davano i nobili tedeschi diceva pubblicamente che Spinosa era illegibile immorale e poi scopiazzava le idee ma questo è un altro capitolo che vi lascio se vi piace attenzione all'accostamento può sembrare blasfemo beh res gogita res extensa Cartesio vabbè ma Bruce Lee che magari non vi dice nulla però è uno che ha fatto una marea di film di karate per la mia generazione è stato il karate si uscìva dai film e la gente camminava alle strade facendo karate sulle macchine rompendose le mani ovviamente beh ci dice che non è così perché lui dice no ma non può essere semplicemente un conoscitore si tratta solo della conoscenza non di vita la vita è ben altro beh Bruce Lee smicara soltanto un attore si era laureato in filosofia e portava avanti questa filosofia il Tao cinese che è una filosofia che non distingue assolutamente tra l'ambiente e il corpo lo stesso Zen che è la declinazione giapponese dallo stesso non declida non taglia questo corpo nostro umano e Baruch Spinoza vi lascio ripetendo quello che lui diceva Dio è natura e res gogitan sia uguale alla res extensa possibile avrete modo con il vostro professore di filosofia che ne sa molto più da me magari di incuriosirvi di questo beh questo fiume Carsico scompare riappare quando? quando a un certo punto il signor De Coubertin nel 1896 fa rinascere il mito dell'Olimpiadi e crea l'Olimpismo e lo crea con molta retorica con l'ertorica di quegli anni lo sport direttantistico lo sport che crea la pace insomma non era vero per niente le guerre continuavano non era come nell'antica Grecia che realmente venivano sospese lui che ci dice che l'Olimpismo è una filosofia di vita che esalta e unisce in un equilibrio insieme le qualità del corpo della volontà e della mente niente di nuovo se le legge un greco del 400 avanti Cristo qualcosa di importante dopo anni anni e anni che queste due realtà erano state completamente suddivise Rava Ioli che è un filosofo italiano che ha scritto un libro importante sulla filosofia dello sport ci rievidenzia questi concetti che ci sono stati dati l'Olimpismo ha avuto un'importanza importante perché ha fatto rinascere questi concetti di unicità di avvicinamento ma non è mai riuscito ad incidere più di tanto anche perché la filosofia occidentale ormai ha fatto essenza di questo dispregiamento di questo atteggiamento nei confronti della vita corporea della vita fisica insomma sono pochissimi i filosofi e soprattutto uno solo che fa riesplore tutto quanto e non è a caso che questo è Nietzsche che è il filosofo che rimette in discussione completamente l'impianto metafisico della filosofia occidentale nessuno come lui farà questo neanche Heidegger dopo che dirà che la fila è morta la metafisica Dio è morto abbiamo bisogno che nasce il nuovo Dio Heidegger gioca rispetto a a Nietzsche e gioca nel senso che fa le cose così in maniera abbastanza leggera è Nietzsche il vero che si richiama a Spinosa cioè lui dice non ha mai letto Spinosa ma dirà in un colloquio ah ma se Spinosa ha detto queste cose Spinosa è il mio filosofo preferito anche Heidegger aveva detto qualcosa di simile anche se poi non è mai stato coerente su questo aveva detto non si può essere filosofi se non si è spinosiani cioè se non si parte da Spinosa ma poi Heidegger ha formato tutt'altre cose quindi anche Ravaioli ci dice attenzione sì ok siamo su questo c'è una riforma si riparte e allora c'è una nascita di una strada comune un ritorno ma le differenze sono più e la realtà è molto più complessa di quello che cerchiamo sempre di vedere come dice Amleto con le parole che gli mette in bocca l'agitatore di spade di lancia Shakespeare ma ci sono cose nel mondo Orazio più di quante ne sogni la tua filosofia e infatti cominciamo a vedere filosofia morale filosofia del linguaggio filosofia della scienza filosofia teoretica estetica che sarebbe interessante anche qui approfondirla con lo sport questo lo lascio al vostro professore quanto di estetica c'è in un gesto sportivo etica che è quello che ci interessa e poi in fondo un ulteriore derivato filosofia dello sport tanti modi di declinare la ricerca del senso o della verità nelle cose che abbiamo davanti è possibile l'etica nello sport è uno sport etico ma la domanda è banale o ha un senso la risposta non è automatica anzi mi sono convinto che veramente è un percorso di ricerca di ricontestualizzazione periodo storico per periodo storico del momento della realtà sportiva in assoluto lo sport non porta nessun valore non c'ha etica dentro di sé è stato utilizzato nei modi più impensabili pensate solo 1936 berlino olimpiadi tedesche hitler utilizza quel momento e utilizza una signora che si chiama refenzerstahl una regista eccezionale che poi si allontanerà dal nazismo per fargli girare due film che si chiamano olimpia 1 e olimpia 2 dove rispolverando il mito greco del corpo del gesto c'è una declinazione totalitaria impressionante una declinazione dell'attività sportiva nell'etica nazista e questo è un ossimoro in modo violento i tedeschi hanno sempre avuto sono sempre considerati i greci i nuovi greci tutti i filosofi tedeschi del 7-800 si sono visti come la rinascita della filosofia greca fino allo stesso Heidegger forse non lo sono stati i filosofi molto più seri di Heidegger come Husser come Jasper persone che hanno fatto della fenomenologia una ripartenza e anche questo è interessante uno studio fenomenologico dello sport sarebbe interessante ma va oltre le mie capacità leggete in rosso la definizione di dottrina portiamocela un attimo appresso questa definizione che lì avete trovato in rosso ma se fosse così naturale allora non esisterebbero queste società esistono strutture che danno la certificazione etica delle società sportive e del mondo sportivo che vuol dire questo? che c'è un riconoscimento che nello sport esistono cose non etiche c'è violenza c'è violenza dentro e intorno allo sport c'è razzismo ma qui quanta gente fischia a bu o quanta gente che di colore che vince medaglie per noi col per l'Italia è sottoposta poi fuori dall'evento sportivo a una grande rappresaglia come diceva Mohammed Ali che allora si chiamava ancora Cassius Clay perché devo andare a combattere in Vietnam quando questi non mi hanno mai detto che sono uno sporco negro e non mi hanno mai vietato di frequentare i bar che frequentano i bianchi perché devo combattere un bianchi e lì l'hanno messo in galera e gli hanno tolto tutti i titoli sportivi c'è l'enorme problematica del doping che non so solo le droghe vere perché qui ci sono le mammine che arrivano a 14 13 12 anni e ci chiedono a noi allenatori ma mio figlio o mia figlia non potrei dargli un aiutino sì signora non c'è problema gli dia tu belle bistecche poi magari si attenta un po' al colesterolo ma gli dia tu belle bistecche ma gli integratori gli integratori sono di quanto più inutile ci stanno attenzione ragazzi al Red Bull ve lo dico pure a fronte di prendere denunce a cose tipo Red Bull perché l'associazione di caffeina e le altre sostanze che trovate dentro sono altamente pericolose per una cosa se voi vi bevete 2-3 Red Bull e state alla grande e se contemporaneamente vi bevete una bottiglia di vodka la reggete tranquillamente fino a quando fino a quando l'effetto della Red Bull è vivo quando quello finisce la botta della vodka vi ammazza quindi tutti questi integratori non servono a una beata scusate il termine molto francese mazza quindi state un po' attenti c'è disonestà no sport quante volte nelle gare estetiche e c'è il giudizio qualitativo sono uscite fuori cose allucinanti io ricordo un presidente del CONI pescante che dopo l'incontro del box che l'atlete italiano aveva perso a punti entrò dentro urlando a tutti quanti che erano una massa dei ladri all'olimpiadi presidente del CONI italiano esiste la certificazione etica che io estenderei veramente cioè lo sport deve farsi riconoscere la propria etica non deve pensare che c'è in modo si stesso scoperto perché esiste ipocrisia che ci dice Margherì Orzenar leggete le memorie di Adriano il romanzo il nero romanzi bellissimi non esageriamo con le proiesie degli uomini la maggior parte pensa troppo poco per pensare doppio un volto ipocrita è proprio un cuore perfido diceva Leciano e Dante Alighieri come leggete li aveva schiaffati all'inferno gli ipocriti e aveva fatto più che bene qui lo vedete col suo accompagnatore Virgilio qui è importante che ci dice Velasco in un vecchio articolo che uscì nel 95 su Micronega eh ma se lo sport non vuole essere ipocrita e quindi vuole essere etico deve avere trasparenza economica non la vedo lo sport come fattore educativo lo sport è per tutti il rapporto tra sport professionistico e business è sponsor quanto questo può essere deviante quanto oggi nella declinazione del capitalismo attuale globale lo sport è sempre di più intrattenimento business è sempre di meno sport come lo abbiamo vissuto negli anni precedenti la grande violenza nelle grandi organizzazioni sportive pensate a quello che è successo tra Juve e Liverpool a Bruxelles e si è continuato a giocare e si è assegnata quella coppa il problema del doppio beh lui dice leggetelo con calma lui dice delle cose molto interessanti dice una delle grandi ipocrisie è quello di considerare lo sport buono o cattivo in sé ma chi lo dice che è positivo in assoluto è chi dice che è completamente l'inverso e che non deve esserci la componente agonistica beh insomma in ogni caso sono degli eccessi che rovinano non danno una conoscenza completa dello sport in sé qui il cede quello ho ripetuto due volte qui scusate ho fatto un errore di copy and call andiamo nella seconda l'agonismo ve l'ho già anticipato insomma ci vuole un'educazione anche all'agonismo e vi ripeto si gioca contro il gioco le difficoltà che creano lo stesso sforzo costante di superare i propri limiti che ci pone non contro qualcuno cioè quindi va non va niente va demonizzato da questa punta vista la violenza va combattuta in diversi fronti è vero lo sport deve far molto al suo interno è anche vero che abbiamo molto intorno una cultura oggi dello sport quello che è importante è non costruire una cultura degli alibi non creare la cultura del sospetto e del vittimismo ma affrontare le responsabilità come stanno questa è una frase che io copio in continuazione noi nello sport agonistico facciamo un mestiere molto particolare sport agonistico non basta fare bene le cose bisogna farle meglio degli altri bisogna provare a vincere ma la vita non è un campionato il mondo non si divide scusate quello che ho lasciato dire tra vincenti e perdenti casomai la prima grande distinzione dovrebbe essere tra brave e cattive persone poi tra le cattive persone ci sono anche dei vincitori purtroppo e tra le brave persone purtroppo ci sono anche dei perdenti questo è lo sport è questo qui lo sport agonistico vince il migliore vediamolo vediamolo tante volte hanno vinto il giro di Francia o il giro d'Italia e dopo un anno la classifica è stata profondamente sconvolta io vivo in un paese dove c'è Simeoni colui che ha denunciato Armstrong beh questo ragazzo campione d'Italia la prima volta che è un campione d'Italia gli è stato vietato di partecipare al campionato del mondo cosa che gli aspettava di diritto perché Armstrong disse se c'è lui non vengo io e siccome lui era denaro Simeoni non è andato adesso per fortuna Armstrong gli hanno torto tutto quello che ha vinto ma i soldi i milioni che ha guadagnato se li tiene in saccoccia mi dispiace solo che Cheryl Crowe una cantante che amo molto se l'è pure sposata dopo un po' di anni ma va bene così quindi vedete che c'è questa rinascita e questa rinascita ha trovato negli anni 60 anche una sistematizzazione dal punto di vista filosofico entrambi le filosofie quella analitica un po' di impianto anglosassone che è più attenta alla linguistica ai processi logici del nostro esprimerci e anche quella continentale che è un po' più quella legata alla vecchia metafisica il senso delle cose la verità ha sempre snobbato lo sport ma dopo con questo suo libro è arrivato il signor Bernal Sweet che pubblica un articolo da cui parte la filosofia dello sport What's a Game? per il giornale Filosofia e Scienze questo insegnava in un'importante università americana a Yale dopo di che nasce uno dei libri più significativi La Cavalletta del crossover Games, Life e Utopia di Howard Luther che è veramente un primo saggio sullo sport sistematico poi abbiamo una versione esistenzialistica quasi dovuta a Jean-Paul Sartre o Compagnia Bella di quello che è la filosofia infatti dal titolo si capisce seguono poi nel tempo articoli che me lo punti Gabriel Marseille Albert Camus Albert Camus è un filosofo scrittore a cui dobbiamo la possibilità di leggere Simon Veil è lui che ha riscoperto i suoi guaterni e li ha fatti pubblicare Albert Camus era un portiere era un portiere di calcio e ha fatto sempre dello sport conoscere le persone pure Platone diceva se vuoi conoscere un uomo più che stagli a vivere insieme tanto tempo gioca con lui due o tre ore e capisci vediamo un po' qui chi c'è cosa avevo messo e capisci Grazie a tutti. Grazie a tutti. Levinas ci dice, noi siamo il viso dell'altro, un'alterità profonda, quasi radicale. Beh, in questi gesti io vedo alterità profonda, radicale, nel mettersi veramente dentro l'altro. Questa è un'etica dei corpi, non è tanto un'etica pensata, è un'etica dei corpi. Non c'è solo questo, c'è anche altro. Questa l'avevo preparata prima. Lo ha fatto alla mano del Dio, questo gol, lo ha messo dopo un po'. Mi hai detto di avvisarti, sono le 11.05. Perfetto, vado veloce ora. Non ha fatto solo questo perché non è stato solo disonesto in quella partita, ma come il genio ha fatto un gol spettacolare. Eccoci qua, andiamo avanti. Adesso la filosofia dello sport è presente. Ha molti libri. Il primo libro da dove parte tutto è Paul Wess. Ha scritto questo libro, è Filosofia d'Inquire, che ha fatto nascere tutto. Anche lui insegnava ieri, dopo di che nascono associazioni. Nel 1932 a Monaco c'è la prima riunione. Lì vedete una serie di libri, tra cui uno che è carino, che è Basketball and Filosofi, dove c'è il tentativo di mettere insieme i maggiori filosofi e la palla canestra. Filosofia dello sport abbiamo anche libri italiani. Ce n'è uno di fenomenologia, quindi legato molto all'impianto usseriano, che è quello che trovate qui. Ce ne sono due del mio collega Isidori, che segna da me. E questo libro qui, che trovate con la testa declinata a fondo rosso, è il primo libro di allenamento scritto nel 200 d.C. da un greco. Libri che si trovano tranquillamente in libreria. Come volevo salutarvi rapidissimamente. Dando più importanza ai percorsi che farete nella vostra vita, anche da questo punto, che è più la meta. Oh, scusate, scusate. Che facile, eh? Basta che si blocca tutto qui, che devo mandarvelo poi, questo. Strumenti dell'informatica. Allora provo a chiudere e riaprire, eh? Rapidissimamente. Perché ho finito, praticamente, era qui. Tutto. Come vedete, lo sport, tutte le cose della nostra vita sono legate a fenomeni di caos. Lo riapro immediatamente, ragazzi e ragazze, così, anche perché mi faceva molto piacere salutarvi con due messaggi finali. Vediamo un attimo se riesco immediatamente a riaprire. Eccolo qua. Così abbiamo anche subito la legge del caos. Siamo stati soggetti. Perché tutto non va come pensiamo. Tutto va, come diceva un gran filosofo Jasper, una frase che vivendo per l'oggi, siamo un po' come dei profughi, che sanno di stare alla deriva, ma non sanno nulla del loro approccio. No, questa non ci interessa, scusatemi, questa è tutta un'altra cosa che non ci interessa. File, apri. Apri, presenti, presentazione del 5 dicembre. Quella Monica ha una lezione sul tiro, pensate che cosa mi tocca fare a distanza. Ma dai. Fare lezione sul tiro a distanza, mi so dove inventare i video, ma lasciamo perdere. Torniamo a noi, ragazzi. Torniamo a noi che la cosa che oggi per me è più importante è l'incontro con voi. Ecco qua. Raff, devi condividere, Raff. E come devo fare? Eh, presenta ora, devi fare presenta ora, perché hai smesso di condividere. Vai sotto, presenta ora. Allora, aspetta un attimo, eh. Vado sotto, presenta, mamma mia, c'è ragione. Questo è quello che pure quando faccio lezione me lo dimentico ogni volta che c'è. Adesso dovreste rivederlo e io adesso posso farlo ripartire. Vediamo, aspetta, eh. Lo vedi, no? No, non ho l'accordo. Ancora no. Ma hai cliccato condividi? Presenta ora condividi. Hai fatto? Non me lo chiedere che mi vergogno. Adesso sì, adesso sì. Non me lo chiedere che mi vergogno. Sì, va bene. Però non si vede la diapositiva. Non si vede? No. Sentitela al testo. La storia sia lunga, piena di esperienze e di avventure. Non temerei le strigoni e i ciclopi o la furia di Poseidone. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero restato è un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. Non incontrerai i ciclopi e le strigoni e neppure il feroce Poseidone se non li porti dentro se l'anima non te li mette contro. Augurati che la strada sia lunga che i mattini d'estate siano tanti quando nei porti finalmente e con gioia entrerai per la prima volta e gli ambori felici soffermati e acquista belle mercanzia ma triperno coraggio vibro e apri anche profumi penetranti d'oggi sorta più profumi inebrianti che puoi e va in molte città che c'entano impari non impari da quello che sa non impari non impari non impari non impari non impari tienila sempre in mente Itaca la tua meta è a prodare là ma non affrettare il tuo viaggio fa che duri a lungo per anni e che è ormai vecchio tu metta piede sull'isola ricco dei tesori guadagnati per la via senza aspettarti ricchezza da Itaca Itaca ti ha dato il bel viaggio senza di lei mai ti saresti messo sulla via nulla di più a da darti e se la troverai povera per questo Itaca ti avrà deluso perché saggio ti avrà fatto il cammino e avrai capito il significato di Itaca il messaggio è questo fate il vostro viaggio si vede lo schermo Monica adesso smetti di presentare e ritorna fra noi lo schermo non si è visto si è sentita la poesia dopo comunque la ritroviamo sicuramente allora se io riesco che avranno per conto loro ok io voglio ringraziarvi di nuovo c'era un ultimo filmato scusi professore c'è una domanda in chat via quella incredibile qual è la domanda io come la leggo io sono in grado la leggo io la leggo io allora buongiorno Deborah è Deborah le volevo chiedere secondo lei da dove nasce il pregiudizio di alcuni che lo sport non è compatibile con la scuola diverse persone ritengono infatti che chi fa sport non abbia interesse nello studio nonostante per certi versi lo sport insegni l'impegno in diversi campi questa Deborah te lo dico molto fuori dai denti e in un ambito scolastico la scuola italiana finito il periodo del ventennio fascista per tanti motivi anche politici ha snobbato ha completamente snobbato lo sport guarda le palestre scolastiche voi siete fortunati avete delle strutture sportive fantastiche se vieni da me le nostre palestre sono dei stanzini c'è un atteggiamento di marginalizzazione quindi c'è questa volontà così di far vedere le cose contrapposte se tu stessi in un paese anglosassone faresti sport nella tua scuola se tu stessi in Francia faresti l'esame di terza media con la prova di nuoto perché c'è la piscina se tu stessi in Ungheria faresti la prova di atletica leggera il problema è uno solo e ce lo portiamo avanti da tanti anni lo sport cambierà in Italia quando si farà nella scuola io ho fatto i campionati studenteschi quando ero giovane e sono i ricordi più belli io poi ho giocato in Serie A ma a giocare per i propri compagni di scuola contro un altro liceo pieno zeppa eravamo 2500 al palazzetto dello sport per me è stata una gioia impazzesca cioè questa divisione c'è perché viviamo in momenti separati perché si pensa che si perde il tempo nei vari spostamenti nelle due organizzazioni del tempo oggi laurearsi e prendere io conosco tanti giocatori anche di Serie A di Serie B che si stanno laureando perché grazie anche diciamocelo fino in fondo allo sviluppo delle università telematiche è chiaro che oggi come oggi con questa divisione che c'è purtroppo tra il mondo della scuola e il mondo dello sport e lo sport a livello secondo me giovanile dovrebbe tutto sta dentro nel mondo della scuola e finirebbero pure tante storie di cartellino di ipocrisie varie beh a questo punto è chiaro che c'è bisogno di una grande organizzazione della persona la persona deve organizzare il proprio tempo e allora questa è una terza valenza chi gioca e studia e vuole essere impegnato seriamente in entrambi i momenti impara una terza cosa la gestione del tempo del proprio impegno su diverse attività e oggi la società purtroppo dal mio punto di vista vi chiederà sempre di più impegni lavorativi diversi e paralleli ed anche la capacità di passare e cambiare lavoro nel tempo cioè noi siamo generazioni che siamo cresciuti col mito del posto fisso per tutta la vita voi non lo so quindi il poter fare sport e scuola insieme vi allenerà pure a questa elasticità nel mondo del lavoro non spero di averti risposto grazie Raffa ci sono altre domande ragazzi? sì ok Deborah ha detto che va bene grazie non ci sono altre domande? non siete obbligati non siete obbligati non siete obbligati allora ringrazio ti ringrazio no no devo ringraziare io ti ringrazio la vostra professoressa e tutto anche gli altri professori ricordatevi che Monica Lanzi oltre ad essere un'ottima insegnante è un'ottima allenatrice da pallacanestro eh vabbè io l'ho conosciuto lei dice che ha imparato da me io mi sono divertito tanto a isolaccia quell'anno devo dire che è stata una bellissima esperienza umana quindi grazie a voi per il tratto di strada fatto insieme e del tempo perché il tempo è la cosa più cara che è importante che si può dare agli altri Raffaele ci farai avere le slide mi farai avere le slide ti mando proprio un we transfer ti mando anche i video associati così vedete anche la partita dei filosofi greci contro i filosofi tedeschi che c'è la più ampia va bene il Monty Python il Monty Python che è fatta molto bene simpatica bellissima grazie mille Raffaele grazie professore grazie a voi di nuovo per le esperienze e per le emozioni che abbiamo condiviso ciao Monica grazie 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 Zanna ci sei spero che Monica dimmi ti ha avvicciato un po' tutto Monica è rimasto Manzoni ma ce l'ho non c'è Nicolò ci sei o ho preso a me o stavi dormendo dietro la telecamera spesa è una lunna penso della Monica, bellissima, ha abbracciato un po' tutto, è tutto l'argomento etico Monica la registrazione così siamo è vero, è vero appena ti arriva il materiale io glielo giro anche la mia la mia pinta grazie